Andiamo a una domanda da parte di una sorella che si chiama anche lei Angela. È una domanda riguardo la Pasqua. Oggi è la giornata degli angeli. Dice, cari fratelli sono Angela, una sorella mi ha chiesto, è vero che non si può comprare l'uovo di Pasqua e di non farli entrare in casa? Se no c'è il rischio che il demonio mette radici perché è una usanza pagana. Io gli ho risposto, sicuramente per Pasqua si festeggia la risurrezione di Cristo Gesù, eccetera. E che l'uovo di cioccolata lo ha inventato l'uomo. Di certo non è biblico. E gli ho anche risposto che basta benedire e consacrare a Dio Gesù Cristo tutto ciò che mettiamo in bocca. E se seguiamo Gesù con fede, facendo del nostro meglio, non c'è nessun problema. Spero di aver risposto giusto. Ma la domanda è questa, portare in casa un uovo di cioccolato pasquale e addirittura non poterlo mangiare, se no il demonio può prendere possesso su di noi, la nostra famiglia, la nostra casa. È possibile tutto questo? Questo messaggio di questa sorella lo ha ascoltato da un profeta. Non mi dilungo, riconosco che forse può essere una stupidata, ma ci tengo a rispondere a questa dolcissima sorella. Benedizioni a tutti e scusate. Allora Giuseppe, l'uovo pasquale di cioccolato si può mangiare o no? Si deve portare in casa o è una usanza pagana? E addirittura portare dentro anche demoni? Se lo portiamo in casa? Allora quella è la risposta corta o lunga? Voglio scrittura? Voglio esauriente? No, quale vuoi tu ma dammi delle scritture così tutto chiaro? Un sì o un no? Allora va bene. Allora andiamo alla parola, rispondiamogli con la parola. Primo Corinzi 8, 4. Ma mica la Bibbia parla di cioccolato di Pasqua? Beh insomma è tra le righe, è compreso. Ah, Primo Corinzi? Cioè la Bibbia non dice di riparare il motore dalla macchina, però hai compreso che se non si rompe lo ripari, no? Allora dice la parola Primo Corinzi 8, 4 fino a 13, guarda. Quanto dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è che un solo Dio. Quindi perché qui c'era un problema nei Corinzi che alcuni erano accusati di mangiare carne che era sacrificata al diavolo, agli idoli, 5. Poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. E' un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Ok, 7. Ma non in tutti è la conoscenza. Anzi, alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo. E la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, non è un cibo che ci fa graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno. E se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Quindi sta parlando di quelli che mangiavano carni sacrificate, offerte alla gloria degli idoli. Quindi molto più, molto di più che non mangiare un uovo di Pasqua che non è dedicato a nessuno. Però è una usanza pagana. Ma sai quante usanze pagane stiamo facendo qui? Cioè Dio non ha mai detto di guidare le macchine. Infatti è una cosa pagana perché uccide un sacco di gente. Io sarei così contento di andare in giro a cavallo. E anche bere il caffè. Non è nella Bibbia che si fa bere il caffè. È una invenzione del mondo il caffè. Sì, ma insomma, vai nel supermercato e pieno di idoli. Ogni cosa è un idolo. È vero. Allora, compri un paio di calze. Hai comprato mai le calze da donna tu? Sì, certo. Donne mezze nude. Ma quelle no. Con le gambe per aria. Come no? Quelle non le ho comprate. Ma sì che le compri. Ci sono sempre tutte le calze da donne e ci sono le donne sguaiate. E dipende come le usi? No, diciamo nell'immagine. Ah, nell'immagine, sì. E allora, cioè quello che ai miei tempi sarebbe stato pornografia. Nelle pubblicità, sì. Ok, e allora le compri però. Sì, sì. E allora? Sì. Scusa, non è la gloria di Dio quell'immagine? È il contrario. No. Eppure però le compri. Quale sorella non compra calze da donna con foto sconce? E per non parlare di altre cose. Però tu non devi usarli in quel modo. Tu puoi fare diversamente. Sì, capito? Nelle intenzioni del mondo è così. Noi però compriamo quello che c'è da comprare, però useremo la gloria di Dio. Compreso l'uovo di cioccolata, no? Però dobbiamo dire che questo uovo non ha niente a che fare con la Pasqua, con Gesù, con il sacrificio? No, è un'usanza del mondo. Però, diciamo, tu mangi un pezzo di cioccolato. Non è che stai adorando l'uovo. Ah, sì, sì, sì. Guarda, dove è che sei arrivato? Ripeto il verso 8. Sì. Ora, non è un cibo che ci fa graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno. E se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Quindi stai dicendo, Paolo, più fumo che arrosto. Che mangi un odo di cioccolato non cambia niente. Se tu mangi un odo di cioccolato, dici, oh, che bel cioccolato che il diavolo mi ha dato. Grazie. Scusa. È spariato. Quello è stregoneria, no? Sì, sì. Nove. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Ecco, attenzione che il più padre dice, però, anche la libertà c'è un limite. Cioè, se uno dice, questo uovo c'è il disegno di Satana sull'uovo. Vedi le corna sull'uovo, lo vuoi? No, che non lo voglio. Vado a prenderne uno senza corna. In quel modo lì. Però se uno ti dice, se uno ti vende una cosa stregata, è certo che non lo voglio. Allora, dice, però, non fate inciampare i deboli con questa libertà. Va bene, non è che andava in giro da uno che per lui è peccato mangiare l'uovo di cioccolato e tu vai lì davanti a lui, ti prendi uno snack, ti fai una merenda. No, non deve andare a provocare, no? Dieci. Perciò, se qualcuno vede te, che hai conoscenza, seduto a tavolo in un tempio dedicato agli idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà tentata di mangiare carni sacrificate agli idoli? Così, per la tua conoscenza, è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro coscienza, che è debole, voi peccate contro Cristo. Capito? Nonostante mangiare l'uovo di cioccolato, non c'è problema, però non lo fare in modo di offendere un fratello, che in quel caso pecchi contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare mio fratello. Ci siamo? Primo Corinzi 8, 4 a 13. Qui rispondi a tutto. Comunque, se questa persona, se costrui un profeta cristiano, che ti sta dando questi problemi, però se è un profeta cristiano dovrebbe credere alla Bibbia, e quindi non dovrebbero esserci problemi. Gli dà queste scritture e tutto dovrebbe essere risolto. Se invece non fosse un profeta cristiano, nel caso dei profeti non cristiani, o nel caso di non cristiani, che la Bibbia non ha risolto niente, perché... Allora, semplicemente, non mangiare carne offerta agli idoli, nel tuo caso uova pasquali, davanti a lui. In questo caso, questa persona non ha nessun diritto di sapere cosa tu mangi o no. Non devi andare in confessione a dirgli cosa mangi. Non sono affaracci suoi. E se ti chiedi, è lo stesso quando uno ti chiede che partito politico voti. Ma scusi, questa è una cosa privata. Vuoi attaccare briga? Ecco. Purtroppo oggi viviamo in un'era in cui molti cristiani seguono le loro dottrine più che la parola di Dio. Che come abbiamo visto, abbiamo letto, la parola di Dio spiega che non c'è problema se dà gloria a Dio, se cerchi di non far inciampare a nessuno. Perché il diavolo può usare qualsiasi cosa a fin di male, a fin di stregoneria, persino la croce. Il simbolo della croce, ci sono stregoni che la usano per ingannare. La croce. E' lo che facciamo? Non abbiamo una croce in casa? Certo che possiamo averla. Però la usano gli stregoni. E va bene, loro faranno quello che vuole. Sì, sì. Uno, un serial killer, usa la macchina per andare in giro a massare la gente con la macchina, come fanno certi, sui giornali, vedi questi, no? E loro non usano più la macchina. Ma guarda, se non usi più tutto quello che il diavolo usa, ti rimane poco. O per esempio, il vino che Gesù ha usato per fare la comunione, per simboleggiare il suo sangue, un alcolico lo usa per ubriacarsi. Esatto. Sì, molti ti diranno, non ha preso il vino, ma succo d'uva. Io non ci credo. Comunque, in Giovanni capitolo 2, ha tramutato l'acqua in vino, quindi vuol dire che Gesù non è contro. Non dice succo, dice vino. Sì, sì. Vai a primo Timoteo 4, anche lì c'è una scrittura. Primo Timoteo 4? Sì, 3 a 5. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Quindi proibiranno cibi che Dio ha creato. Quindi questi animali sacrificati ai demoni, puoi mangiarli perché è tutta la terra del Signore, dice Paolo. Quindi, è forte quello che sta dicendo Paolo. Quindi quanto più per mangiare un uovo di cioccolato che vendono al mercato. Quattro. Sì. Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Primo Timoteo 4, 3 a 5. Allora, il punto è tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere. Quindi non lasciate che questi religiosi vi guidano intorno e vi dicono cosa dovete fare, dovete vivere secondo la loro coscienza, secondo la loro fede. No. Vivete secondo la vostra coscienza e la vostra fede. Sì. Paolo sta dicendo questo. Però sto pensando adesso, non credi che comunque l'uovo di Pasqua stanno facendo una grande cosa. A Pasqua si celebra più l'uovo che Cristo. Questo uovo è dappertutto in ogni supermercato, si regalano, ci sono immagini dappertutto con the rabbit and the eggs. Il coniglietto. Il coniglietto e le uova. E alla fine si celebra più l'uovo che Gesù. Non credi che stanno esagerando un po' come l'albero di Natale invece di celebrare la nascita di Cristo. Natale è la certa storia. Sì, certamente. Certamente il Natale non rappresenta più Gesù, rappresenta il supermercato. Con il Babbo Natale seduto per farsi le foto lì con l'ubriacone, lì con la barba lunga. Sì, è vero. Ma mica noi dobbiamo farlo però. Quindi se loro esagerano, noi cosa dobbiamo fare? Noi guardiamo a Gesù, noi siamo cristiani e celebreremo il Natale come cristiani. E se abbiamo un albero in casa, assicurati di non adorarlo come facevano i druidi che adoravano gli alberi. L'importante è che tu quell'albero lo compri perché i bambini lo vogliono, vogliono attaccargli i regalini, eccetera. Tutto dipende come. Noi qui l'albero lo mettiamo, prima io dicevo che non serve, però i bambini, le sorelle, ma qui, ma là, l'abbiamo messo, però qui nessuno si sogna di adorare l'albero. E non si fanno regali qui. Regali a Gesù, non uno all'altro. Noi quando abbiamo i compleanni qui, è Natale, non facciamo regali. No? Perché? Perché... È un idolo. Perché il compleanno è una festa pagana, il compleanno. E allora non ci interessa di farlo. Il regale lo facciamo a Gesù, non alla persona. No, il compleanno no, perché celebrate me, è il mio compleanno, datemi regali. No, quello no. A Natale regali neanche perché è il compleanno di Gesù. Perché dare regali uno all'altro se è il compleanno di Gesù? Non ci sono compleanni nella Bibbia, tranne Erode. Erode è stato il compleanno, il suo regalo di compleanno è stato, che lui ha fatto a sua compagna, la testa di Giovanni Battista. Altrimenti non ci sono compleanni nella Bibbia. Si adora Dio. Noi qui, quando qualcuno fa il compleanno, insomma, per abitudini nel mondo, sì, d'accordo, facciamo una torta. Facciamo una torta e basta. È una preghiera per la persona? E preghiamo per la persona. Preghiamo per ricevere doni, Spirito Santo. E poi, dopo il compleanno, regalargli un paio di scarpe, regalargli la giacca, regalargli i pantaloni, perché qui mica regaliamo cretinaggine di giocattoli. Sì, sì. I regali qui sono un paio di scarpe. Cose utili. Una camicia, i fratelli che lavorano, handyman che lavorano tutto fare. Il loro regalo è un martello, cacciavite, un trapano. I regali credi che si faccia. Ma questi regali, mica, infatti a volte scherziamo con i bambini. Gli diciamo, guarda che bel paio di scarpe. Te le regaliamo adesso o a compleanno fra undici mesi? E dice, no, non se ne parla neanche. Chi vuole aspettare? Dice, ma dopo quando viene il compleanno non è che ti lamenti che nel mondo c'è un regalo. No, no, i bambini qua non gli frega niente dei regali di compleanno. Li vogliono subito quando servono. Però, dici, per quanto riguarda il cibo, non è un cibo che ci fa gradite a Dio. Non importa cosa mangiamo. L'importante è che rendiamo grazie a Dio. Esatto. Quindi non possiamo smettere di mangiare cioccolato, carne, bere il latte, usare il burro, perché alcuni figli del diavolo li usano a fin di stregoneria. Ah, sì. E buonanotte. Sì, sì. Il diavolo usa tutto, compresa la Bibbia, la religione. Guarda i farisei usavano la Bibbia contro Gesù. E allora cosa facciamo? Non usare la Bibbia perché i farisei la usavano contro Gesù. Come dire? Cioè, capito? Se non siamo guidati dallo Spirito Santo e seguiamo la lettera, alla lettera, diventiamo scioccarelli. Quindi, la parola, come Paolo diceva, basta che le usiamo con rendimento di grazia perché sono santificate dalla parola di Dio e dalla preghiera. Amen. Ma dovrei dare Tito 1, c'è una bella scrittura sul soggetto. Tito? 1, ce l'hai, 15. 1, 15. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Capito? Tito 1, 15. Ecco. Cioè, tutta la Bibbia parla contro l'alcolismo, l'ubriachezza. E Gesù tramuta l'acqua in vino. E qui c'è oggetto di critica. Se taluni cristiani, e siano pure dei profeti cristiani, come la persona in questione qua, inciampano sul nostro cibo, semplicemente assicuratevi di non mangiare davanti a loro. Non apparecchiate, mettetevi a mangiare davanti a loro. E se vi interrogano a proposito, ficano il naso, cos'è che mangiate a casa vostra? Non siete tenuti a fare il resoconto delle vostre cose private, ma chi sei tu? Cosa mangiate voi? Perché vuoi saperlo? Vuoi attaccare briga? Digli cos'è. E tu, mangi questo tu? E perché vuoi saperlo? Cioè, il miglior modo di rispondere a una domanda fuori, diciamo, fuori dello spirito, che non dovrebbe essere posta, insomma, è rispondere con un'altra domanda. Perché vuoi saperlo? Parate questo. A primo corinzi 10, va. Ah, c'è un passaggio. Primo corinzi 10? Eh, 28 a 31. Se qualcuno vi dice, questa è carne di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito, e per riguardo alla coscienza. Quindi, se ti dice questo cioccolatino, l'uso in stragoneria, d'accordo, non lo mangio. E a casa tua lo mangi? E perché vuoi sapere queste cose? Vuoi litigare a tutti i costi? A casa mia? Non ti riguarda cosa faccio a casa mia? Poi? Per riguardo alla coscienza. Alla coscienza dico, non tua, ma di quell'altro. Infatti, perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Capito? Non è che metto di misura la coscienza di questo profeta, ma è che si arrangi. Se più lì è peccato, che so io, guardare film cristiani e non li guardi. Io invece li guardo. Trenta. Se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Primo Corinzi 10, 28 a 30. Più chiaro di così non si può. Sì, è bello, è bello. C'è tanta libertà nello stesso tempo, attenzione a non scandalizzare altri. Io cerco di non offenderti, non mangio il cioccolato davanti a te. Allora, devi andare a ficcare il naso, cosa faccio a casa mia? Tu vuoi attaccare briga. A casa mia tu non hai bisogno di sapere, sono cose private. Un credente, a casa mia io faccio cose che secondo me sono corrette davanti a Dio. Non sono corretta davanti a te. Allora, facciamo una cosa, guarda. Tu stai a casa tua, io sto a casa mia, è tutto risolto. Un credente che sia profeta o no, se indaga le tue cose private per poi criticarti, è solo uno che vuole attaccare briga. Ti consiglio, evita queste persone, profeti o no. Come nel caso di Balaam, il profeta Balaam, numeri 22, e quelli di Matteo 7,21. Chi sono quelli? Erano tutti profeti, però non tutti i profeti sono guidati dallo Spirito del Signore. Profetizzano sì, ma non nello Spirito del Signore, perché hanno il dono e lo usano a fin di male. Quindi nel caso, comunque, senti, io ti dico questo, Angela, sorella. Se il profeta insiste, guarda, potresti dirgli che mi scriva a me, che magari possiamo raggiungere un accordo. Magari quando qualcuno gli offre delle uova di cioccolato di Pasqua, che li può spedire a me, tranquillamente. Ci penso io a risolvere la cosa. Anche i miei figli saranno certo felici di aiutare a risolvere il problema. Ma che accordo è questo? E no, questo qui ne è guai. Questo qui, se mangi cioccolato, la casa diventa stregata. Ma guarda, se questa è la sua fede... Allora, diventi stregato da ogni piccola cosa, allora. Se la sua fede è che se tu mangi un Kinder, o quello che è, la tua casa diventa stregata, sarà meglio che non lo mangi, perché secondo la tua fede ti viene fatto. Sì, ma allora diventi stregato da tutte le cose piccole che incontri nel mondo ogni giorno, allora. Sono tante cose sbagliate. Ma certo, infatti noi prima di tornare a casa, qui, preghiamo, Signore, puliscici di ogni spirito del mondo, perché i spiriti del mondo fanno autostop, no? Sì, ma devi essere più forte però nella fede. È sufficiente? No, va bene così. Guarda, c'è tutto Romani capitolo 14. Tutto il capitolo parla di questo. Uno mangia verdure, l'altro mangia carne. Uno è debole nella fede, quell'altro è forte nella fede. Chi è forte non disprezzi il debole. Qui qual è il debole? Decidi tu chi è il debole. Il carnaio o l'ortolano? Ci siamo? Sì, sì. Andiamo avanti, va. Quindi Angela, se hai altre domande facci sapere. Andiamo a un... Diggila a quel tuo profeta lì. No, non è il suo profeta. Hanno sentito così da un profeta. Ecco, dì il profeta che tranquillamente mi può spedire a me. Tutte le uova che così le mette insieme, le mandi qui, che risolviamo il problema. Gosh. Bisogna aiutare i fratelli che hanno problemi, no? Certo. Questo è un profeta a carico di problemi. Sì, ascoltiamo il canto Gesù vive e dopo alcune testimonianze di guarigione. Tutta la terra tremò Il sole si oscurò Tutti gli uomini che erano con lui Lo lasciarono Lo crocifissero E poi lo seppellirono La vita di colui che dava vita In un attimo cessò Pensava di aver vinto la sua sfida contro lui Ed anche tutti i deboli Gridavano vittoria Oh, ma loro non sapevano Quale fine li aspettava Alla domenica mattina Così come disse tu Bisogna a noi Bisogna a noi Alla domenica mattina Ed ora abbiamo un nuovo inizio Ed un regno Che non ha fine Alleluia, Alleluia Alleluia, Cristo vive in me La morte nella donna Tutto tra te ne vengono E lui vive, E lui vive E lui vive la sua enbolega Primo, il vivo, il vivo Il peccato è scoperto E quando l'ho scoperto E ci ha dato libertà La mia di Dio è solo E di che mi so Gesù vive Gesù vive Gesù vive Gesù vive Autore e compitore che crede in niente Colui che disprezzarono Il profondamento è per me La morte non ha vinto Nella tomba non c'è più Alleluia, Alleluia E' meraviglioso Con sola con lei Parola che dà vita Che potesse il nostro re E' il principe di pace Gesù vive Gesù vive Alleluia Cristo vive in me La morte nella donna O Dio lo frate ne vengono Gesù è il suo Gesù vive Gesù vive Gesù vive Gesù vive, Gesù vive, Gesù vive, Gesù, Gesù credo in te, Gesù io credo soltanto in te, io griderò a te mio Signore.